Ciao a tutti cari signori di MDN, e benvenuti in questo nuovissimo video di Vimile I.C.L., con la richiesta di Cristian Mattia 2004, e Samuele Turone. E ieri festa della Repubblica Italiana. Cominciamo subito con, 1, Cristian Mattia 2004. La sigla di studio aperto del 2002, o la sigla di TG la 7 del 2002? La sigla di studio aperto del 2002. E concludiamo il video con, 2, Samuele Turone. La sigla di Mileshiro è bellissima. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, è un manga scritto e disegnato da Koyo Harugo Toje. Oshinoko, My Star, è un manga scritto da Akakasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. Le straordinarie avventure di Schulz Verne, è stato un cartone animato italiano di Rai Fishon, realizzato in coproduzione con Luxvide, e con lo studio di animazione Musi Cartoon. Ciao a tutti e alla prossima.